31 corsi di alfabetizzazione per 400 cittadini stranieri, apprendimento della lingua italiana, nozioni di educazione civica e altri servizi complementari come il babysitting per le giovani mamme e le attività di mediazione linguistica e culturale, fino ai percorsi di aggiornamento per i docenti tenuti dall'Università per Stranieri di Perugia. Sono alcuni dei risultati del progetto Si forma, servizi inclusivi per la formazione, presentati oggi a Pescara nel corso di incontro a cui ha preso parte anche l'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco. Un'iniziativa avviata un anno e mezzo fa, finanziata dal fondo FAMI, asilo, migrazione e integrazione, in collaborazione con la fondazione Mondo Digitale, l'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti dell'Aquila, Pescara Chieti e Teramo. Al progetto hanno partecipato anche le prefetture, le amministrazioni comunali di Pescara, Fossacesi all'Aquila, oltre al CODEM. Loro vogliono conoscere il paese in cui si trovano, vogliono capire come muoversi, cosa fare per poter integrarsi, per poter trovare occupazione. Questo progetto è in parallelo a una serie di progetti che stiamo facendo affinché l'integrazione possa essere reale, possano i ragazzi e gli adulti essere considerati, perché lo sono, una vera risorsa per il nostro paese. Di fatto stiamo, grazie anche all'ufficio regionale scolastico, aiutando i comuni a far sì che l'integrazione anche negli SPRAR possa essere un'integrazione reale.